Una delle cose più difficili per praticare o migliorare in golf è la posizione dell'impatto. Dura due millesimi di un secondo, è velocissimo, ma è la parte più importante. Quello è diciamo il segreto di golf, è una cosa sicura. Se la mia posizione dell'impatto è buona è sicuro che la palla parte bene, lungo e dritto. Allora io vedo troppo spesso che il momento di impatto i dilettanti arrivano sulla palla e si vede che si bloccano qui e il corpo non fa niente. Cosa fai? Come conseguenza ti tiri su, trattieni la braccia e stai cercando un modo per rilasciare il bastone. Questo è il classico. Allora in questo video di oggi vi faccio vedere esattamente tre modi per praticare l'impatto che aiuta a aumentare le sensazioni e tirare la palla più lungo e più dritto. Allora drill numero uno è una cosa che aiuta a sentire un po' meglio come abbiamo bisogno di sentire l'impatto. Allora voglio spiegarvi una cosa importante un attimino. Quando io per esempio voglio lanciare un sasso sull'acqua, sai quando quando fai schizzare il sasso sull'acqua? Se ci pensi cosa faccio? Io prendo il sasso, vado indietro, poi faccio un appoggia davanti, apre il corpo, apro poi rilascio. Addirittura se vedi che mia mano destra sta andando indietro mentre che giro, poi rilascio. Ok? Immagina cercare di lanciare un sasso così. Ok? Non ce la fai lanciare né con potenza né con precisione e neanche l'angolo giusto che fa schizzare sull'acqua. Io ho preso questo alignment stick, anche questo. Se io voglio lanciare questo alignment stick dentro il terreno, ok? Non lo lancio e io voglio lanciare leggermente davanti alla palla, non lo lancio in questo modo che sto statico. Io voglio aprire per lanciare quell'angolo lì. Allora apro, lancio, ok? Faccio un con uno, così vedete, le stesse cose. Vado su, apro, mentre che sto ruotando e creando spazio con mia rotazione dall'anca sinistra. Se vedi, io sto appoggiando, alzando questa gamba, ruotando il bacino e poi sto creando una situazione che posso lanciare con energia dentro il terreno. E se vedi mia rotazione, il mio finish sarebbe perfetto per golf. Questo è importante, ma cosa fanno i dilettanti? Classico, c'è la palla in mezzo. Quando vedono la palla, fanno il backswing, entro il panico, devo prendere la palla, lanciano così e ovviamente ho scaricato presto. Allora non arrivo con la palla con potenza né precisione. Allora, un ottimo esercizio per questo. Adesso prendo il bastone e un T. Usa il T per rendere tutto un po' più semplice. Ok, T basso così. Poi dopo si può togliere il T quando uno diventa un po' più bravo. Per questo esercizio cosa vogliamo fare? Praticare l'impatto, la posizione che serve. Molto importante. Allora, qui c'è un ferro sei, piedi non troppo larghi, peso 55, anzi, c'ho il mio peso leggermente spostato più a sinistra, mani davanti. E cosa faccio? Giro. Ecco, rotato, raddrizzata la gamba sinistra, automaticamente. Cosa succede? Le mani vanno davanti, gomito destra ce l'ho dentro. Non vado così con la spalla davanti. Classico, che i dilettanti cosa fanno? Spingono contro il shaft, verso la palla e come conseguenza si alzano e cerca di colpire con rilascio in questo modo. Invece i professionisti rottono, creano spazio, stanno alzando un po' sulle gambe sinistra, spalla sinistra si è alzata un po', gomito dentro, così c'è una posizione. Vi faccio vedere quest'angolo qua. Giro, gomito, giro, gomito. Ok, in questa posizione io sto sempre guardando sopra la palla o leggermente indietro la palla. Ok? Allora, io faccio questo tre volte. Uno. Encore uno. Due. Tengo. Tre. E adesso faccio un colpetto. La stessa sensazione. Ok? Lo sentite esattamente. Una rotazione molto piacevole lì. Allora, fate questo esercizio. Tre prove, senti la posizione corretta e sul quarto tira la palla. Drill numero due. Adesso vogliamo costruire sopra drill numero uno. Vogliamo praticare l'impatto, la sensazione di cos'è un impatto corretto, poi facciamo chiusura. Allora, come si fa questo? Se metti qui. Facciamo prima senza palla. Rotazione. Vedi l'anca sinistra indietro, raddrizzo un po' il ginocchio, la spalla si alza un po', gomito dentro, mani automaticamente vanno davanti. Da qui chiudo. Da qui chiudo. E se vedi facendo questo quanto è facile lanciare via la braccia un rilascio potente, esplosivo. Ok? Se io sono qui lancio, se io spingo contro il shaft del bastone e butto la testa verso la palla. L'unica cosa che posso fare qui è alzarmi e usare le mani per rilasciare, scocchiaiare. Non solo è brutto, è poco potente, è poco preciso e non posso essere regolare come colpo. Allora, facciamo l'ultimo. Rotare, senti. Chiudo. Allora, quelle le sensazioni, quella chiusura. Faccio solo una prova. Faccio sempre un mezzo backswing e solo per rinforzare le sensazioni. Faccio solo una prova di questo. Uno. Rinforzato. Torno. Mezzo swing. Vado. Bellissimo. Un draw altissimo. Solo con mezzo swing ho fatto più di 110 metri. È stato potente senza nessun sforzo. La differenza sta qua. Lavorate su questo. Aiuta tantissimo. Drill numero tre. Come ho detto sugli altri due drill di prima, in qualsiasi gesto atletico dove c'è lanciare una palla o colpire con una mazza di baseball, il movimento è sempre, se c'è una mazza di baseball, è aprire e esplodere sulla palla con rilascio. Ma la mani arriva per l'ultimo, si scarica per l'ultimo. O se devo lanciare il giavolotto qui, apro, boom, questo e lanci. È il momento di golf verso quale? La difficoltà è che c'è la palla lì in mezzo. Noi vogliamo colpire. Ma abbiamo bisogno di creare spazi per un rilascio potente, un impatto perfente per un rilascio esplosivo. Adesso uso un alignment stick per drill numero tre. Mi metto in posizione, trovo la mia distanza. Questo alignment stick lo metto fuori dal mio tallone sinistro. Se venite qua in giro, se vedi esattamente come è posizionato questo, lo spingo molto in giù. Uno può usare anche una sedia senza problemi. E cosa fa? Lo tengo qui sulla linea dei talloni, qui indietro. Spostato un po' davanti. Il mio obiettivo da qui è creare un movimento che quando, adesso faccio il swing completo, quando vado avanti devo shiftare l'anca un po' verso questo alignment stick. Ok? E poi devo ruotare il mio, l'obiettivo che il mio cinturo, la fibra della cinta, tocca il alignment stick. Ok? Se lo metto un po' più dritto, ecco, se tocca l'alignment stick così. Ok? Questo è il mio obiettivo. Allora, faccio il movimento un po' storto, un po' più dritto, ecco. Allora, faccio il back swing, vado, boom. E se vedi qui che sto praticamente toccando con la fibra. Non voglio andare addosso, se io vado così, vedi, mi sono allontanato. L'obiettivo, qui sposto, giro, spazio, le devo toccare. Di nuovo un paio di prove. Voglio risentire quello che voglio. Addirittura vado davanti un attimino per sentire questa sensazione che il mio fibra della cintura arriva su il alignment stick. Ok? Mi metto lì e facciamo questa prova. Ok. Bene. Allora, se vedi, questo è un esercizio fantastico per migliorare la sensazione dell'impatto perfetto, la puoi rinforzare proprio tanto e questo mi dà quell'esplosione di rilascio, mi dà più potenza, la parola va più dritto e diventa anche più costante come golfista. I pro fanno così. Allora, è ora che voi fate le stesse cose. Be your best. Se ti è piaciuto questo video, schiacciate il bottone like e magari condividi con un amico. Puoi cliccare sul campanello vicino Subscribe per non perdere più un video come questo.